Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video arrivati sulle Sky Wars Ok si ragazzi, siamo finalmente qui in un nuovissimo video però oggi mi vedete con la webcam Sempre se riesco a metterla perché non si sa mai Comunque oggi ragazzi vi dico subito, apriamo questa parentesi Sempre ti sentite un po' a motion, mi vedete anche un po' rosso in faccia, ricordo sempre se metto la webcam, ma penso di sì Semplicemente perché c'è un po' di febbre, ragazzi se sa, non dite Luke ma tu lo fai a posto per non andare a scuola, forse No comunque a parte i scherzi, quando arriva l'inverno se sa che c'è pure l'influenza, tutte le cose di mezzo E io ho beccato una bella febretta, infatti ho sentito un po' rosso, voi dite Luke ma perché proprio oggi ho messo la webcam in cui sei tutto rosso Ragazzi oggi c'è la voglia di dire qua con la webcam, siccome qualcuno l'altra volta me l'ha chiesto qualche gameplay con la webcam E eccovi accontentati Allora vediamo subito i blocchi per andare nell'altra isola Ovviamente ragazzi vi ricordo che io quando guardo giù lo faccio perché qui c'è il gameplay, ok? Non è che mi dite Luke ma che ca... sto qui, sto qui Allora vediamo un po', dobbiamo andare Ragazzi da un bel po' che non faccio Skywars, devo ammettere un sacco Più che Skywars è un sacco che non faccio minigames proprio, ok? Mi sembra ovvio, perché le Skywars sono minigames? Sì, penso di sì, survival games, comunque questa roba qua E quindi siamo velocissimi proprio a prendere tutta la roba Mamma mia, c'ho le frecce ma non c'ho l'arco C'ho le frecce, mi serve un arco Ci vuole tanto darmi un arco, FI... Eh, FIFA stavo dicendo Minecraft è un arco, non c'è Non tocchissi, dammi l'anima L'arc, l'arc è quello che è, usb può fare, zu 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 Sì, roba brutta ragazzi sto dicendo, mamma mia Comunque ragazzi ci tengo ad aprire una parentesi intanto che giochiamo Appunto ringrazio tutti coloro che la sera ogni tanto mi vengono a trovare in live Quando io vado in live appunto mentre edito Giusto per parlare un po' insieme Mi fa piacere che qualcuno venga Voleva aprire questa parentesi giusto per Ah, altra cosa ragazzi Mi vedete che sto molto basso vicino al microfono No perché non voglio farvi vedere la bocca Ma semplicemente perché Ah qua devo cambiare la texture per dettagli Perché siccome la mia stanza è abbastanza granduccia Per quello che c'ha dentro In questo senso è abbastanza vuota più che granduccia Se io non mi avvicino tanto si sente l'eco E quindi voglio evitare che si sente perché può dare molto fastidio Comunque, spiegato anche questo Possiamo giocare tranquillamente, penso Pensa, pensa, pensa Io avevo visto uno di là Infatti sta là Mamma mia ragazzi Dobbiamo vedere come organizzarci per non morire Per non morire Allora Andiamo avanti subito Subite 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 Ok Ok Ma no Ragazzi comunque sono su Mind Blacks a fare le Sky Wars Molto più grande di lui Ma perché sei qua su Mind Blacks? Non lo so Non lo so Non lo so E vabbè sì sì Guarda questo Madonna guardate come sono bravo nel PvP Sono bravissimo A morire nel PvP Ragazzi ovviamente questo qua c'aveva già tutto in diamanto Ma che cacchio sei Mi chiede sei troppo che forte compare Comunque ragazzi a parte gli scherzi Questo era overpower dopo pochissimo tempo Quindi c'è stava la morte c'è stava E andiamo a cercare un'altra partita Per lo meno due Per lo meno Nuova partita la trovata ragazzi Però sapete qual è il problema? Che vedo che oggi Poca gente sta giocando alle Sky Wars Su Mind Blacks Perché alla seconda partita sono eh Ci sono tre server a disposizione Eppure non c'è nessuno dentro Tre server intendo Tre lobby per le Sky Wars ok Però poca gente entra Adesso per fortuna abbiamo raccolto Tutti i player possibili e immaginabili E speriamo di andare bene almeno stavolta E speriamo di fare qualcosa di importante Qualcuno Una Qs Due Qs Tre Qs Qualcuno di importante Raga ma poi un'altra cosa Ho usato la Shaders in questo video Perché ormai mi sto innamorando della Shaders Quindi spero che vi piace anche a voi Perché penso di usarla molto spesso D'ora in poi Però se me Ah ok giustamente manca ancora Io volevo partire in anticipo Perché io sono il figlio della gallina bianca Come si suol dire Allora Mettiamo tutti i blocchi di Copleston Ehi ciao Tu sei un pollo Sì Oh bravo pollo che muori Sì ok Pollo mi hai fatto scattare lo sai Allora Facciamo così Ma no C'abbiamo l'armatura completa No non è vero Ci mancano i piedini Però taglie Non è proprio male Per gli iniziare Minchia ma io parlo proprio italiano Ma io come parlo io italiano Lo parlo come un marocchino Appena arrivato in Italia Oh ma che Oh ma c'è uno Ma lo spettatore Ma tu mi hai fatto spaventare Ma chi era Ma perché qui là c'è una roba Da chi ha Gold show Ah vero Ci stava Ice bridge Ma mi sono ricordito Tipo io puntavo là Quello saliva 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 E io faccio Boom 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 No Guarda questo L'ho colpito L'ho colpito L'ho colpito Buttato giù Mamma mia raga Che verso di Quello tutto tankato Tutto coatto E l'avevamo buttato giù In pochissimo tempo Maron amico Ma gliel'ho buttato addosso Adesso vuoi versi di riuscola Ma che schifo Cosa gliel'ho buttato addosso Eeeh Zuzzi Zuzzi Oh Ah Tre secondi Due secondi Un secondo Si ci mette un po' per usarli Se sa Se sa Ok Via 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 Mamma mia Raga arrivati subito No 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 Io non ho fatto niente Strunze Strunze Io ti volevo lasciare in pace Invece muori Aia 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 Sei strunzo Sei strunzo più di tutti gli altri Sei proprio Un bastardo No raga Sono morti In un modo brutale Però dai Abbiamo ucciso prima uno Una soddisfazione Ce la siamo tolta Meno uno E che Agnoatmo Agnoatmo Ed eccoci qui In una nuova partita Ragazzi Finalmente ci siamo Finalmente l'ha trovata Perché ci ha messo un pochettino Anche adesso Vabbè Si aspetta Si fa tutto Si fa con calma Allora ragazzi Siamo già a 7 minuti di rec Va bene Dai si può fare 7 minuti sono pochi Poi si taglia La parte in cui cerchi la partita E poi si taglia Mentre uno scorregge Qualcuno lo sa In live Cosa taglio Mentre scorregge Di certo Però sapete che parti taglio Quindi vi invito ragazzi A passare live Quando edito A parte perché diventiamo tutti matti Compresi Quelli che sono con me E però tu sei tutto Scema Pensate No raga Ma non si può uscire Dopo due secondi Stavo dicendo Diventiamo tutti matti Durante quelle live Perché si parla Si cazzeggia Intanto edito Faccio due cose in una Live E editing Allora Andiamo a cercare un'altra partita Perché purtroppo Ci è andata male Porca truta Ed eccoci qua Finalmente sta caricando Allora Ah veramente 4 3 2 1 Non posso Aspettare tutto questo tempo Oh Bravo Bravo Mamma mia Guardate la roba Maronna mia Ok Vediamo un po' Vediamo di non morire Perché andiamo lì C'è uno che già vuole venire da me Ma serio O perlomeno ho fatto la finta Allora 3 d'attacco A questo punto preferisco usare l'ascia Non mi chiedete perché Ma c'è un'altra cesta in giro Oh Che cazzo Oh Che cazzo Ma perché c'è uno che continua a stalkerarmi Eh Ah ma c'è sta giù Che cazzo Manca a farla apposta l'ho beccato L'entrata va bene Comunque c'è uno che mi continua a stalkerare Raga Io ho paura dei pedofili Uffa Ma che mi stupra a me Non ho capito Vabbè Mi mo Oh Guardate là Quando si è bello Quando costruisci il ponte E ti ho buttato giù Una Uova Con una uova Grazie Pollo per le tue uova Eh Fatti pure un bambino Bravo Ok Adesso riuscirò mai ad arrivare lì Quella è la vera domanda Ci riesco Ci riesco Raga lasciate sta che il ghiaccio è un po' baggatuccio Ok Lasciate sta Ah ecco Ma è leggermente baggato Però per il resto si accetta tutto Allora Raga con calma Ho di nuovo la possibilità di farmi la spada di ferro E noi ce l'andiamo a fare In caso che non la troviamo però Guarda quello Guardalo Eh Vuoi farmi male? Vuoi farmi male? Ci stai riuscendo? E ci stai riuscendo? E ci stai riuscendo? Mamma mia Mamma mia Raga questi sono tosti Se dico tosti Sono tosti Sono peggio di Mike Tyson Ma no perché Per il suo manganello Perché è tosto Vabbè non so cosa sto dicendo Sto dicendo cose bruttissime Raga andiamoci a fare l'ultima partita di oggi Incrociando le dita Che sia la partita giusta Ah Questa sì che è una bella partita Sapete perché? Sono entrati subito i player E di conseguenza si perderà Dopo 5 secondi di gioco No Spero di no Perché non voglio perdere subito Sai com'è? Io li inizio per un motivo Oh no? Comunque raga Incrociamo le dita E speriamo di non morire Facciamo così prima cosa Eh però Cazzo Cazzo Più veloci Cazzo Ok Vediamo Allora raga Roba classica Sembra le stesse cose Piedini di oro Oh Mareppomatose Il pollo Ma c'è uno che mi stalkerà No il pollo Raga vi vedo qualcuno che mi stalkerà Mi guarda il pipino Mi guarda il mio pipino Allora qua abbiamo una spada con sharpness Uno Almeno sicuramente fa più danni Prima sono stato stupido Comunque mette l'ascia a posto di quello Perché fa meno danni Però lasciate stare Sono molto un genio Allora Con calma Vediamo un po' Possiamo andare lì Giusto? Ci arriveremo mai? Non lo so Allora andiamo giù Così verificiamo meglio Vai 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 Maron mi Maron Maron Come ci sono arrivato? Eh però qua Madonna Se failavo in quel momento So già quanti insulti beccavo Allora vediamo un po' Quanta affilatezza c'ha questa qui Quattro Quindi mi tengo quella Mi metto questo Ok finalmente sono full armor Ne è full diamond Ne è full iron Però comunque sono full armor Almeno quello ce l'ho Intanto volevo dire Ma lì Pensavo che era uno dentro Invece era la foglia qua Vai 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 Boom Voilà ci sono Ci sono Ho perso un po' di cuori Oh questa è voluta Prendermi Questa è voluta Oddio Sto laggando No c'è laggato di connessione Raga eh Ci siamo ammazzati a vicenda Non lo so Forse si Forse no Credo proprio di no Comunque ragazzi Io spero che il video di oggi Su Mindplex Vi sia piaciuto In tal caso Che il video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare like Se ne volete altri Lasciate ancora like Commentate il video dicendo Luke che bello con la webcam Luke che c'è con la webcam Webcam Curio Condividete il video Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E Ciao a tutti ragazzi